Ciao Eddie, oggi l'udienza di appello. Cosa ti aspetti? Niente, non penso diranno niente oggi. Penso che l'esito verrà dato non oggi. Hai avuto molto supporto da personaggi della cultura, dello spettacolo. Come ti senti? Sicuramente penso che questa vicenda sia stata unificante per tante persone perché, al contrario che in altri casi, è molto chiaro da che parte stare.